Allora rieccoci, diretta studio, l'Inter si prepara alla festa, domani sarà il giorno della celebrazione di uno scudetto che è già ufficiale da lunedì, tra l'altro già lunedì c'è stata la festa, quella spontanea, no, non organizzata da parte dei tifosi, domani invece ci sarà proprio quella della squadra che giocherà la partita col Torino alle 12.30, poi alle 16, dopo aver fatto una festa in campo, partirà il Pullman, il bus scoperto, che attraverserà Milano per poi arrivare in Piazza del Duomo, attorno alle 21, più o meno questo è il programma. Giacomo, domani sarai a San Siro, giusto? Sì. E vabbè, insomma, è chiaro che è una partita che conta più per il Toro, nel discorso che facevamo, no? Però io credo anche che l'Inter non voglia certo sporcare, tra virgolette, no, la propria stagione nel giorno della festa, quindi, ma aspettiamo un Inter che la voglia vincere. Io credo che non ti regala niente nessuno, anche perché è vero che hanno vinto già lo Scudetto, però vorranno fare più punti possibili, io adesso non so quanti possono ancora, quanto possono arrivare, a 101? Sì. Perciò ti dico, secondo me l'Inter vorrà fare i punti più possibili, però il Torino, anche se è comunque davanti una squadra che, anche se ha vinto lo Scudetto, non è semplice. Anche per un Torino, le ultime due o tre partite del Torino non sono state ad altezza, sotto l'aspetto fisico, tecnico e tattico. Per esempio col Frosinone non si è riuscito a fare un tiro in porta, in tutto rispetto al Frosinone. No, avevamo vinto con l'Inter, campione d'Italia. Era già campione l'Inter. Era già campione con il record di Trapattoni. Avevamo vinto in casa 2-0, ti ricordi? Però Giacomo al Toro è difficile far gole, eh? Cioè, anche quando non rende davanti, dietro... Hai ragione, però a questo punto del campionato, specialmente adesso, sempre vale. Però se tu non fai tre punti, rimani sempre lì. Se tu noti, io chiaramente guardavo il Torino, la classifica è sempre la stessa. Monza un punto o due dietro, noi lì. Se invece tu riuscivi a fare un punto a Empoli, non dico nel derby, nel derby va benissimo. Però batti il Frosinone. Poi il Frosinone che sta giocando bene, però giochi in casa, dove hai cercato di vincere, non ti riporta una volta. Il Torino ha pareggiato anche con la Salernitana. Perciò non stai giocando granché bene, secondo me. Ma a proposito, il futuro di Juric, perché poi non si è più sentito, nulla, ma insomma, sembrano che alla fine non ci sia tutto questo mercato attorno a Juric. Allora, ad oggi, almeno, ad oggi sembra che, sì, una squadra, lui, credo che ce l'abbia, ed è il Genoa. Se dovesse andare via Girardino, però. Secondo me il Genoa potrebbe essere una squadra, se non rimane al Torino. Ma io credo che comunque un allenatore che è arrivato a quattro partite, cinque partite alla fine del campionato, è scadenza, non ha ancora firmato, non è una bellissima cosa, secondo me. Però credo che tra lui e il presidente Cairo abbiano già parlato. E sul discorso dove potrebbe andare, secondo me il Genoa potrebbe essere una squadra, se, ripeto, se va via Girardino. Anche se, sinceramente, ma lo dico col massimo rispetto del Genoa, ma secondo me il Genoa e il Torino, cioè... È un piccolo passeggio. Forse ad oggi addirittura, no, il Torino ha qualcosa in più, anche come prospettive. Ma diciamo che si equivalgono, quindi lasci il Torino... Beh, però lui è stato giocatore anche al Genoa. Ma l'ha anche già allenato. Sì, sì. Però Girardino ha probabilmente la prospettiva di andare a Firenze. Sì, e quindi... No, io ti dico Massimo, ho sentito la voce, poi non so se succederà, sai, come sempre nel discorso del mercato, quando si comincia a parlare. Io ho sentito il nome di Rino Gattuso, oltre a quello di Palladino. Che potrebbe arrivare al Toro. A me piacciono tutte e due, sì. Ti devo dire la verità, a me piacciono tutte e due. Piazzerebbero tutte e due. Gattuso per la piazza Toro, anche a livello di spirito, può essere quell'allenatore che ti dà... Anche se Gattuso negli ultimi anni non viene per esperienze. Non ha fatto, sì, è vero. A me, secondo me, uno come lui in quest'ambiente potrebbe... Potrebbe essere il suo. Sì, io credo che potrebbe far bene, sì. Tornando invece all'Inter, ieri sono arrivati, tra virgolette, degli attacchi, no? Da Milan e Juventus, le conferenze di Pioli e Allegri sono andate a toccare il tema Inter. Soprattutto Pioli ha detto una cosa che è stata interpretata in modo abbastanza polemico e provocatorio. Ve lo faccio ascoltare. Pioli, che sottolinea come l'Inter sia la squadra più forte da quattro anni, ma abbia vinto solamente due volte. Sentiamo. L'Inter è quattro anni che è la squadra più forte del campionato, questo sicuramente. E ha vinto solamente due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, ci siamo riusciti, in alcune volte, in alcune volte meno. Ma abbiamo dato tutto. Ma non sempre siamo riusciti, poi dopo poi, a mettere... Mentalmente abbiamo dato tutto, abbiamo provato a dare tutto, ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco. Come la dobbiamo prendere, Francesco, questa frase di Pioli? Secondo me dice una grande verità. Il problema è che non dovrà dirla. Perché sembra che deve pulirsi la coscienza dei propri errori di quest'anno e della stagione precedente, magari. Però la realtà dei fatti è questa. Ce l'abbiamo detto migliaia di volte qua in studio, quello che sta dicendo Pioli adesso. Che gli scudetti precedenti sono andati in mano a due squadre che sulla carta partivano svantaggiate rispetto all'Inter di Inzaghi. Questo è un dato di fatto. Cioè il primo Milan, scudettato, in quella stagione lì, va a vincere lo scudetto perché si compatta dopo febbraio, fa squadra, fa gruppo, inizia a non subire più reti e approfitta di un Inter che fa sette punti in undici partiti. Praticamente quello che ha fatto quest'anno la Juventus a febbraio e marzo. E il castello di Inzaghi, che fino a dicembre era costruito benissimo e secondo alcuni che venivano qua a tifare Inter e a sopportarla, è addirittura più bella di quella di Conte. A livello di gioco, no? Il secondo anno arriva un Napoli che fa cose stratosferiche all'altezza dell'Inter di quest'anno e quindi è una cosa con cui non puoi giocare contro, ma tu finisci a meno 20 punti. Non finisci a meno 5 l'anno scorso. Quindi secondo me il ragionamento ci sta in piedi, imperfettamente, perché a rose e a costruzione da quando Conte è nato all'Inter al primo anno ha fatto un secondo posto, che poi è arrivato secondo perché la Juve ha mollato perché ha vinto lo scudetto a marzo, ma ha fatto una finale Europa League. L'anno dopo ha vinto uno scudetto, dopo 10 anni, dopo 11 anni senza trofei e dall'anno dopo in poi arriva Inzaghi con lo smottamento vario di vari giocatori che se ne vanno, ma ne vengono presi altri. Quindi secondo me non dice un'eresia, dice una cosa che ci sta, però poi il campo spesso e volentieri racconta che non vince la più forte. Però messa così, Giacomo, mi viene allora da dire che quindi l'Inter quest'anno non ha fatto un qualcosa di straordinario, ma ha fatto soltanto il suo? Oppure no, oppure ha fatto qualcosa di straordinario per come l'ha vinto questo campionato? No, io non sono d'accordo. Io credo che l'Inter quest'anno ha fatto un campionato straordinario, ha vinto meritatamente come l'ha vinto il Napoli l'anno scorso, questo non c'è dubbio, perché questa è la realtà. Però sul discorso di cinque anni, quanto ha detto? Quattro anni? Quattro anni, sì. Due scudetti, però i trofei all'Inter e in altre società li contano anche Coppa Italia, Supercoppa, e anche se contano meno, perché quella che conta di più è la Champions, quello sicuro. Poi ha fatto una finale di Champions League, va bene, l'ha persa, però ha fatto una finale. Non sono tanto d'accordo sul discorso ha vinto solo due scudetti, quello di Conte e quello di Inzaghi. L'Inter, secondo me, ha vinto di più come trofei. Ripeto, se tu mi dici valgono meno, valgono meno. Questo è vero. Però ha vinto, mi sa, solo in Zaghi cinque trofei. Cinque. Però allora ha ragione Francesco quando parla di Allegri e il fallimento della Champions. Perché Allegri mi ha massacrato? Mi sembra che ci sia un peso diverso quando si faccia. Però, scusa, è quello che sono d'accordo anch'io con lui. Cioè, c'è un peso diverso. Ci sono due pesi, due misure. L'Inter e la Juventus, secondo me, insieme al Milan, è inutile. Non me ne vogliono i tifosi della Lazio e della Roma, ma lo dice l'Albodoro e la storia. Sono le tre squadre più importanti in Italia, anche esportate nel mondo. Cioè, è logico che alla Juventus una Coppa Italia e una Supercoppa italiana pesa niente. Zero. Zero no, ma uno. No, zero sì. Uno. Altrimenti, scusami, non ci sarebbero i premi che vengono dati collettivi o individuali dove danno 500 mila euro a vittoria del campionato e 50 mila euro a vittoria della Coppa Italia. Un decimo. Vuol dire un decimo. C'è una gerarchia nei trofei, certo. Se tu vai a vedere, e poi vi faccio anche un altro paragone, la Coppa Italia in Italia, scusate il gioco di parole, inizia quasi alle semifinali, forse ai quarti di finale. Manchester City, che è il detentore della FA Cup, parte dai 32esimi finali e gioca una partita secca, o in casa o fuori, partendo anche a giocare con squadre della Championship o squadre della Premier, e se pareggia deve rifare la partita, quindi l'FK pesa e difatti Antonio Conte ha vinto l'FK e pesa tantissimo. Quindi secondo me, scusami, finisco, secondo me il peso in queste società, attenzione, non sto dicendo in generale, per questo detto l'Atalanta che vince la Coppa Italia ha un peso astronomico, la Lazio che vince la Coppa Italia, fanno il pullman scoperto, a Torino, a Milano, e a Milano sponda Milan, se vince la Coppa Italia sono tutti zitti. No, questo è vero, però allora io mi chiedo e dico, ho sentito Allegri ieri, gli ha fatto una domanda sul discorso della finale, perciò ha detto che spera di vincerla. Vincerla. Aspetta, è chiaro che se tu mi vieni a dire il peso della Champions League con la Coppa Italia, no aspetta, il peso della Champions League con la Coppa Italia, lo so anch'io che è diverso, non è che devo inventare l'acqua calda, il discorso è che se io non vinco il campionato e vinco la Coppa Italia quell'anno lì, ho vinto un trofeo che non vale il campionato ma è un trofeo, ma chi è che no, no, però il problema è se lo posso dire io che sono tifoso e dico, sì la Coppa Italia per l'Inter o la Juve o Milan, però Pirlo non l'ha detto il tifoso, su Pirlo l'esame l'ha fatto una società, Pirlo ha vinto la Supercoppa italiana, la Coppa Italia ed è arrivato a qualificarsi in Champions, chi ha fatto l'analisi? Alena la Sampdoria in Serie B, certo, i dirigenti della Juventus di cui tu parlavi prima, ma quella Juventus e quei dirigenti avevano stabilito altri obiettivi iniziali, ecco perché poi l'han cacciato, però non credo che l'Inter quando va via Conte che lascia una Ferrari che va a 200 all'ora, dica, no quest'anno siccome siamo un campione d'Italia niente scudetto quest'anno non lo facciamo, e infatti l'Inter ha rischiato di vincere lo scudetto e scusami lì c'era ancora forse un Inzaghi poco esperto dell'ambiente, poco esperto, io non sto dicendo che Inzaghi è scappato, io sto dicendo che neanche che ha fatto il suo, no, assolutamente ha fatto qualcosa di straordinario, ma io non sono d'accordo che non valga niente i trofei L'Inter e Juventus hanno il peso uguale a tutte le cose, stiamo contestualizzando Io devo perdere, bisogna dare il peso uguale a tutte le cose No, però ti dico anche questo, le parole di Allegri è di un allenatore, scusami, a cui la società ha detto devi per forza arrivare in Champions come primo obiettivo, ok? Poi se vince anche la Coppa Italia, meglio La domanda, la domanda, ci ricordiamo all'inizio dell'anno del Milan cosa dicevano? No, che volevano vincere lo scudetto Sì, certo Allora io potrei rispondere Infatti ho detto una delusione al Milan quest'anno No, ma io rispondo a Pioli, no, sto rispondendo a Pioli perché lui ha detto sulla domanda l'Inter ha vinto solo due scudetti Allora io gli dicevo, scusi mister, ma all'inizio dell'anno lei con la società siete partiti per vincere? Perché lui adesso, esatto, lui adesso non dice più C'era Francesco, aspetta un secondo, Francesco Non io, non io, ma i dirigenti dell'Inter e mezza stampa, l'anno scorso, prima dell'ottavo di ritorno, aveva esonerato praticamente in zai Oh, esatto Sì, vero La Marotta stesso l'aveva quasi esonerata in azione I tifosi, i tifosi Nel calcio ci sono degli slide indoors Perché siamo onesti, se dal bussolotto, invece che il Porto, perché l'Inter arriva a seconda Esce il Real o il City, c'hai molte meno probabilità di passare Scusa, collezioni sempre le tue belle 10, 12, 13 sconfitte in campionato Secondo me oggi Inzaghi non era più l'allenatore dell'Inter Ma siccome il calcio è fatto da slide indoors Lo slide indoors in quel caso e in quel momento è stato favorevole E anche il successivo sorteggio è stato, tra virgolette, benevolo E poi dopo lui ha meritato Alla fine, quando abbiamo visto la finale che ha perso l'Inter No? Con il Manchester No? Abbiamo visto la finale e ha giocato la pari Sì, per carità Ma sì, ma sì Ma è stato il Porto Ma è stato il Porto Il Porto ha eliminato il Porto Ha eliminato due anni la Juve Sì, ma appunto Il Porto è una squadra sempre fastidiosa Ma perché? Mi spiegate perché c'è questa diversità di valutazione a seconda della squadra Cioè, quando la Juve va in finale A me il Porto e il mio Juve perché non la vince Scusate Non fischiano il rigore non sopra il caso No, non si parla di fallimento Ma si parla solo del fatto che non l'ha vinta No, no ragazzi, fermi, fermi La Juve è arrivata in finale, ha fatto un bel percorso Matteo, assurdo, mi ti fermo Ma perché l'anno scorso l'Inter ha fatto una cosa eccezionale ad arrivare in finale Ti fermo un attimo Ti fermo un attimo Perché quando io ero qua Che la Juve tornava dalla sconfitta della Champions Lo scudetto non era più l'obiettivo della stagione Ah, è certo Era una cosa automatica addirittura Hai capito? Doveva vincere per forti Al settimo, ottavo, al nono Al quinto, al sesto Il concetto è semplicemente che l'Inter arriva e si gioca la finale alla pari Con Sintima la perde E in campionato arriva terzo di Torajú, ragazzi Cioè, di cosa stiamo parlando? Però la differenza È arrivato terzo di una squadra che l'anno scorso è stata deflagrata Prima dei giocatori Avanti e dietro i punti Giocatori dentro, giocatori fuori Ragazzi, vai Giacomo e poi dopo ci fermiamo No, su questo discorso che sta facendo Francesco adesso Secondo me, io ho il mio pensiero Certo Beh, io non ho mai detto se la Juve va in finale Io che non sono della Juve No, non tu, non tu No, no, ma sto mettendo Però in generale c'era un attacco d'allegri Allora, io che dico Sai qual è il problema? Che è arrivato a un certo punto Che la Juve ci sono stati gli anni Dove ha vinto sempre Scudetto, 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 scudetto E io mi ricordo che anche i tifosi della Juve dicevano Oh, quasi quasi che lo scudetto ne fregava niente Scemi loro Volevano puntare No, aspetta, lo dicevano Eh, ma scemi loro Ma no, ma quello succede perché tu lo vinci per tanti anni di seguito Ma non è lo posso vincere anche cent'anni di FIA Già, cosa parli con me Francesco, ma perché tu la pensi così Però io mi ricordo che in quegli anni quando la Juve, vi ricordate anche voi Sì Vinceva uno scudetto dietro l'altro Giocava male Sentivi giornalisti, tifosi specialmente No, giocava male, però vinceva Dopo il terzo o il quarto Non riuscivi ad arrivare all'obiettivo che era la Champions Sembrava quasi che lo scudetto, dimmi se mi sbaglio Era una cavolata No, ma anche di peggio han detto Di peggio Questo è niente Ecco la differenza Però io dico come mai allora Scusa, ma stai venendo verso di noi No, ma stai dicendo delle cose Stai arrivando a dire Quello che stiamo dicendo noi Sì, perché se una squadra che vince nove volte lo scudetto E ogni volta che non arriva a alzare la Champions Dici che è un fallimento Perché? E ti mettevano tutti i perché I perché hanno comprato Iguaini I perché hanno comprato Ronaldo I perché dopo sette scudetti devi vincere qualcos'altro I perché, i perché, i perché L'Inter non è di meno dalla Juve Allora perché quando l'Inter Eh, ma è perché stanno finendo Te lo dico adesso E dimmelo perché Perché dopo Mourinho C'è stato un periodo dove l'Inter non vinceva più niente Giusto? Ha cominciato a vincere con Antonio Dieci anni Sono passati dieci anni Dieci anni Allora, io sono convinto Questo è il mio pensiero Poi magari posso sbagliare La differenza Eh no La differenza è che tu Eh no Juve Vince per dieci anni di seguito Eh no, no, no Di là Non vincevi più Perciò hai perso la speranza Adesso ti dico un'altra cosa Un attimo Una cosa a loro Una cosa a loro La volevo sviluppare Mi piace Eh, dai, dai Dimmelo Dimmelo, dimmelo Scusa Quando Conte vince il primo scudetto Che era senza coppe E arrivava da due settimi posti Alla Juve Secondo anno Esce, se non sbaglio In Champions con il Galassari Quando gli fanno la partita Sì, sì Per neve Per neve Per neve Ha cominciato a massacrarlo Ucciso Ma la Juve Ucciso Lui, la Juve, Agnelli De Marotta Perché non era andata avanti Eh ma non vinceva da dieci anni E che la Juve Lui, la Juve, Agnelli e Marotta L'ho massacrato quella sera Io mi ricordo Dopo quella Prova di quel campo lì Ma chi era massacrato Tutta la stampa Io dico che c'è Una mediaticità diversa Esatto Una mediaticità diversa Torniamo tra due minuti Io non so Da qui a tra poco Sarà rieccoci Sera scatenato lo studio Sul discorso Inter Io ci aggiungo Un ulteriore elemento Per aumentare ancora Un po' di più Il fuoco E cioè le parole di Allegri Perché ieri anche Allegri È stato interrogato In sala stampa Sull'Inter E Allegri ci ha aggiunto Un ulteriore elemento Cioè quando A inizio stagione Marotta E Pioli anche Lui ci mette anche Pioli Dicevano che la Juve Era favorita Perché non giocava le coppe Sentiamo Allegri Non so se l'Inter Era più forte Negli ultimi Tre anni So solamente Che io ho detto Che quest'anno L'Inter era nettamente Più forte Negli altri Però venivo preso Per Per matto Ma ci sono dei valori E bisogna essere realisti Nella cosa Che sono quelli L'Inter In questo momento qui Rispetto alle altre Ha un valore diverso La Juventus Per Cinque anni Ha giocato Ha vinto Cinque scuriti Ha giocato Due finali di Champions Ha giocato Due quarti di finale Ha vinto Quattro Coppe Italia È sempre arrivato In fondo Giocando 55 Su 57 partite All'inizio Giustamente Il direttore Marotta Doveva dire Per forza così Tra l'altro Li faccio complimenti Per il lavoro Che ha fatto Che sta facendo All'Inter E così come Lo diceva Stefano Giustamente Ma Ci sono I fatti Dicono Tutt'altro Ma è normale Che sia così Alla fine Dice Il giusto contesto Lui sta rispondendo A una domanda Lui sta rispondendo Alla domanda Che gli fanno Perché l'intervista Qui gliela fanno Il primo pomeriggio E a Pioli L'avevano fatta Alle 11 di mattina Pioli dice Dei 4 anni E loro gli dicono Hai sentito Cosa ha detto Pioli No Sembra che lui Si inventa dal zero No ma io l'ho detto Ti ricordi Quando Marotta Diceva che Eravate favoriti Perché non giocavate Le coppe E poi la seconda parte Non giocare le coppe Ma le coppe Neanche il Torino Gioca le coppe Anche a Frosinone Infatti ti ricordi Che Antonio Conte Al primo anno di Juve Di fronte a questo tipo Di provocazione Rispondeva sempre Io quando giocavo A pallone A livelli alti Se c'erano le coppe europee Durante l'anno Era addirittura meglio Perché ci aiutava Ad affrontare anche il resto Della stagione In altri modi Io non ho mai sentito Dei grandi campioni Parlare di questa roba A livello di Che disintegrasse La squadra o la rosa Anzi se mai rendeva Più competitiva Dal punto di vista di testa Anche quelli che giocavano meno Dovranno essere sempre più disponibili Quindi è ovvio che tu Se hai una rosa all'altezza Come quella dell'Inter Allora puoi giocare Tranquillamente tra competizioni L'anno scorso L'anno prossimo ce ne sono cinque Io mi chiedo Ad oggi Giuntoli Per esempio Non vorrei essere in Giuntoli In quest'estate Tu devi fare una squadra Per Campionato Coppa Italia Champions League Forse Supercoppa italiana Mondiale per club Con la rosa che hai oggi Ah no è chiaro Devi fare un grande lavoro Quest'estate Ma quindi no Jack Perché anche Allegri Nella prima parte La risposta Dice io non lo so Se era più forte Gli ultimi tre anni Quattro anni Ma quest'anno Aveva un valore diverso Allora posso dirti Sono d'accordo con Allegri Anche secondo me Sulla carta Io ti dico Non mi aspettavo un Napoli così Devo essere sincero Non mi aspettavo un Napoli così Però rispetto alle altre Io Il mio timore era Timore tra virgolette Napoli Inter Milan Juve Poi Napoli è andato come è andato Però ti dico Su quello che hai detto Io sono d'accordo con Allegri Perché secondo me Sulla carta Era più forte Siccome carta canta Qui a settembre Alla prima Pausa delle nazionali Che era a settembre Facciamo C'era Francesco Il gioco Facciamo Il toto Scudetto Con le prime quattro Classificate Che ieri L'hanno tirato un po' fuori Perché l'ha fatto vedere Vinci Vinci se Stiene tutto Si era tenuto La foto La foto Io non so Io ricordo Che praticamente Guarda eccolo Guarda cosa ho messo io Eccoci qua Ci sono anch'io Inter Prima Inter 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 Tutti ha messo Inter Sì eravamo tutti allineati Scusa Giacomo Quando Giacomo Giacomo Ferri Quando Inzaghi Dice Noi all'inizio dell'anno Ci davano Per abbiamo Ci davano niente Perché qui non ci sono solo io C'è Oppini Solaroli Fusato Tutti quanti I pronostici del campionato Poi come vedi Scusa Nei pronostici Tutti buttano dentro il Napoli Forse l'unico che non l'ha buttato dentro è stato Fusato Ma tutti buttano dentro Napoli Che è il grande assente Io l'avevo dato quarto E qualcuno anche la Lazio Perché la Lazio arrivava Sai perché Massimo Secondo me Perché a Inzaghi All'inizio dell'anno Gli hanno fatto un'intervista Io me la ricordo E gli fecero la domanda Sul discorso del cambio del portiere Sono andati via dei giocatori Sono arrivati altri Per esempio è arrivato Turam Che nessuno è E allora gli ha detto Ma A domanda L'Inter si è indebolita Perché anche un giocatore poco fa Ha rilasciato un'intervista Del genere Dicendo Ci avevano detto che all'inizio Eravamo più deboli Invece poi si è verificato Che abbiamo vinto quest'anno Beh, inizio mercato Il problema Il problema è che Inzaghi secondo me Ha risposto per questo Perché all'inizio Gli hanno detto Guarda che la tua squadra Rispetto all'anno prima Ad oggi si è indebolita Però sulla carta Secondo me Io anche noi L'avevamo fatto Io non so se c'è No, era Io mettevo Napoli-Inter Ti devo dire la verità Sì, sì Poi dopo Napoli è andato Sì, sì C'è l'altro Francesco Avevi fiducia nella Juve No, io la davo quinta Dopo la stagione passata L'avevo quinta Perché non c'era chiarezza Non si poteva far mercato Era stata penalizzata Quindi sai Non era molto rosa La situazione Però io più che altro Visto che si parlava di Marotta E Allegri parlava di Marotta Io quello di cui Sono più curioso Cioè quello che Se potessi glielo chiederei Ma non andrò in conferenza stampa A seguire l'intervista Dopo Dopo Inter-Torino E non mi interessa neanche di farlo È proprio il gesto che lui fece E l'intervista che lui fece Quando vinse il 36esimo scudetto La Juventus Dove lui dichiarò pubblicamente Che quello era lo scudetto numero 36 Non 34 E quindi vinto sul campo E adesso mi festeggerà Seconda storia dell'Inter Qualcosa non torna a casa mia Adesso lavora per l'Inter E prima lavorava per la Juventus Capito Però se sei un professionista La dici tutte e due Cioè la puoi dire anche normalmente Anche stanno Cioè se sei un professionista Ne dici un modo diverso Quello purtroppo è un argomento Sempre scivoloso Perché se dice una cosa Contenti qualcuno Ma scontenti l'altro Ti fa capire che nella vita Devi stare attento a cosa dici Perché poi le robe rimangono E se tu dici Che con lo scudetto lì È il 36esimo sul campo Perché poi te ne vai E ne vinci un'altra metà Perché va via ottobre Dell'anno dopo lui no? E la Juve ne vinci altri due Nel frattempo No allora Allora scusa Allora scusa La cosa giusta da fare Sarebbe questa Domanda Se ci fosse un giornalista Con le palle Andrebbe da Marotta E gli direbbe Scusi Secondo lei oggi La Juventus Quanti scudetti ha? Perché lei Disse All'epoca Alla conquista Del 34esimo Disse che ne aveva 36 Oggi secondo lei Quanti scudetti ha la Juve? E lui ti deve rispondere Ti deve rispondere Per me ne ha In ogni caso Rischia di impantanare Eh beh vedi Però la domanda Andrebbe fatta Scusi La Juve Quanti scudetti ha? Perché Otto anni fa Sette anni fa Lei aveva detto questo È ancora di questo avviso O adesso Ha cambiato idea? Perché è un po' Scusi Perché no Scusa Ma è come quando È come quando È come quando Cassano andò al Milan Quando Cassano andò al Milan E disse Sopra al Milan Non c'è nulla Tipo c'è il cielo C'è solo il cielo E poi andò all'Inter E gli chiesero Ma scusa ma Avevi detto che Sopra al Milan C'era solo il cielo E lui fa È tipo Sopra il cielo C'è all'Inter Ma chi è questo? No Oppure 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 chiedere Oppure chiedere Oppure chiedere Oppure chiedere a Turam Oppure chiedere a Marcus Turam Che ha fatto una stagione pazzesca Se a conoscenza del fatto Che lui sta festeggiando Una stella Grazie a uno scudetto Vinto dal padre Alla Juventus 18 anni prima Anche questa è una domanda curiosa Per esempio Tra l'altro Gira anche una foto Di Turam Gira perché c'è Esatto Al delle Alpi Al delle Alpi Ovviamente Al primo scudetto Avvocato 2005 Esatto Maggio Giacomo domani Adesso al di là di tutto Ci speri un po' Che il Toro Possa fare il colpaccio Magari un Inter Un po' No io non penso Di trovare un Inter Distratta Io credo che Come? Vara acceso No Vado io al Var Vai tu che meglio Se scusse meglio Tu sicuramente Ha detto No A parte gli scherzi Però io non credo Di trovare un Inter Distratta Io spero Che il Toro Ritorna a giocare Come giocava un po' Di tempo fa Perché Altrimenti Prendi un'imbarcata Perché l'Inter Ragazzi Comunque è una squadra Che anche se ha vinto Secondo me Giocherà Giocherà per fare Come ho detto prima Per fare più punti possibili Se vai lì convinto Di pareggiare O vincere Perché l'Inter È distratta Lo scudetto Fai l'errore Più grosso della vita Anche se Insomma A livello di motivazioni Abbiamo visto prima La classifica È il Torino No Tu dici Non ci credi Tanto all'Europa No Il Torino in Europa Io ci credo Ma anche perché il Torino Gioca comunque bene Poi ripeto Ultimamente L'Inter ha portato È vero che Come dice lui Va in Come dire Se fosse Va in Velocità da crociera L'Inter lo stesso Perché comunque Adesso che hai vinto Sei ancora più consapevole La tua forza Eccetera eccetera Però non Non credo che sia una partita scritta È decisa Perché comunque il Toro Deve lottare per qualcosa L'Inter non più Anche perché Senza nessun mezzo termine I 102 punti di Conte Non gli arrivi No Il record non può essere più battuto Quello non ci arrivi Cioè il record Dei clean sheet Leggevo Se Sommer non prende più Gollen Da qui alle prossime 5 Batte il record Di Buffon Saltano fuori tutti i record Quando vincono loro Si Si dà importanza A ogni record Sai che però Il calcio È diventato Una Materia Quasi di numeri Che mi dà fastidio E ti dico una cosa Che mi dà fastidio La parola assist Che viene coniata Alla cazzo Scusate Nel senso Scusa Per dirmi Ti do un assist No te lo spiego Te lo spiego Rinvia un difensore Per spazzare via È un assist La palla La buca L'altro difensore Che è l'ultimo uomo Quello si invola in rete È un assist Lo segnano assist Sì sì Uno tira in porta Ha sbagliato a tirare Interviene l'altro Che è È un assist Tipo il gol di Milic In Coppa Italia È un assist Una volta L'assist Era Il centrocampino Il numero 10 Che metteva Sul piede Del numero 9 La palla Che doveva mettere dentro O un cross Che risultava Un cross Da gol Cioè tu dici Deve essere un passaggio Voluto E quindi quando uno Poi dice Eh ma no Quest'anno ha fatto 12 gol E 8 assist No andiamo lì a vedere Gli 8 assist Perché se gli 8 assist Sono 4 tiri Sbagliati No L'assist Sai cosa hanno messo Una volta assist Ha fatto un passaggio A centrocampo Uno Questo qui si è involato Foden Ha fatto tutto lui Ha preso Ha scattato la squadra Gol Assist Gli ha passato A centrocampo Gli ha passato E' come quando Maradona Segnia l'Inghilterra Esatto Maradona Segnia l'Inghilterra Ha fatto l'assist Vandano Che gli ha passato A tre quarti campo Come gol Che ha fatto Ti ricordi Vandano scherzando Gli disse Sì però io t'ho fatto l'assist Esatto Ti ricordi Anche per esempio Il gol che ha fatto Leao In Milan-Sandorio Con il lancio Di megnano Però quello era un assist Sì ma ho capito 50 metri Se l'ha visto libero Gli ha lanciato Scusami Fede È quello che sta dicendo Lancio di megnano Il difensore Ha acceso la sigaretta Ha mangiato un panino Poi se ne è accorto Che arrivava da 50 metri Il lancio di me Dai non puoi giudicare Un assist Faceva Sommer Era l'assist della vita Sì vabbè Ma non è un assist Un Sommer Avesse fatto Sommer Mamma mia Sì vabbè Adesso Adesso te Sì Sommer Scusami Abbiamo parlato Tre settimane Di una verticalizzazione Di Cialanoglu Tre settimane Tre settimane Di una verticale Di Cialanoglu Che si vede Nel calcio da 30 anni L'ha imparata al Milan Secondo me Quella verticalizzazione Non le faceva Quelle cose lì Devo andare in pubblicità Io voglio sapere Quando è che vediamo I video di Borrelli Sul Pullman Col Pullman scoperto Domani Domani No no Non sono video Quindi festeggiano ancora Mi dai un assist Vi racconto Che domani Oltre a seguire Questo è un assist Questo è un assist Questo è un assist Oltre a seguire Inter-Torino Ovviamente La partita Saremo in onda Dalle 12.30 Nel post partita Il nostro Michele Borrelli Si staccherà E andrà a seguire Il Pullman dell'Inter Quindi poi Ci farà vedere Ma lo segue come? A piedi Correndo Io voglio vedere È un corteo Ma fino a mezzanotte Io voglio vedere Questa scena Non lo so Questo glielo chiediamo Adesso se ci sta seguendo Ci può mandare I dettagli Della sua giornata Siamo pronti a riceverli Insomma Mi sembra che Siamo ai livelli Della festa di Napoli Dall'anno scorso qua Eh domani Sarà una grandissima festa Sì